Tra l'altro, Edo, sai come si chiama? Pipistrello in dialetto? Cremonese? Io adesso... Dai! Gregna Papula! Bravissima! Gregna Papula! Cacchio vuole questa, Edo? Cosa vuole? Arrivederci, mi ha fatto piacere! La famiglia di Francesca Ferragni sta trascorrendo un'idilliaca vacanza alle Maldive, godendosi il viaggio di nozze in pieno relax. Francesca, insieme alla sua famiglia, si è immerse nelle acque cristalline dell'arcipelago, dedicando del tempo alle affascinanti immersioni per ammirare il suggestivo paesaggio sottomarino e le meraviglie del tropicale luogo di destinazione. La presenza del piccolo Edoardo, il loro figlio, e della vivace cagnolona Gabriella rendono la vacanza ancora più speciale, con la famiglia al completo. Mentre Francesca e i suoi cari si godono queste indimenticabili giornate paradisiache, il loro viaggio alle Maldive si rivela un'esperienza ricca di momenti felici e di connessione familiare. Grazie. 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 Grazie.